Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 12, dove si segnalano 4 km di code a tratti tra Massa e Versilia in direzione Rosignano, spostandoci in A1 in direzione Roma a rallentamenti per il traffico intenso tra Firenze Sud e Incisa Reggello. Sulla strada regionale 429, variante di Certaldo, divieto di transito per la chiusura in entrambi i sensi di marcia tra i km 12,50 e 17,650 circa nei comuni di San Gimignano, in provincia di Siena, e di Gambassi Terme e di Certaldo, nel territorio metropolitano di Firenze. Si ricorda che a Firenze sono iniziati i primi cantieri della linea tramviaria Fortezza San Marco, info sui nostri canali social. Ed è tutto, buon viaggio! Grazie a tutti!